Seba ci siamo terza giornata in arrivo domani al Palabarton arriva a Verona l'abbiamo definita l'ammazza grandi vittoriosa a Piacenza vittoriosa in casa sempre il tebrec con Trento che Verona ti aspetti Seba? Sì è una squadra che è partita a tutto fuoco si vede che stanno facendo un bel gioco perché insomma hanno vinto con con due delle squadre favorita quindi le possiamo mettere anche loro dentro delle favorite mi aspetto una partita difficile perché ci sono giocatori che in attacco soprattutto fanno la differenza sono forti alti potenti quindi penso che sarà impegnativa e niente noi dobbiamo mettere il nostro impegno per fermarli l'abbiamo parlato in lungo e largo la rotazione giocatori tu sei uno dei due che non ha ruotato hai visto cambiare tutti gli interpreti le tue zone vicine questo per dire è un punto di forza di questa squadra Seba? Sì è un punto di forza perché insomma quando uno magari va in difficoltà ci serve l'aiuto della panchina è una squadra che è fatta per questo per essere lunga per avere la forza in più che magari ogni tanto non può trovare una e niente questo è una cosa positiva e molto buona che insomma bisogna sfruttarlo e allora domani sera è un sabato sera è una partita importante abbiamo bisogno del pubblico abbiamo bisogno sì certo è un bel weekend per per essere qua dentro per per stare insieme per per tifare per divertirci insieme e lottare quindi vi aspetto a tutti quanti domani andiamo forte